Ciao ragazzi, andiamo avanti con i nostri interattivi a richiesta. Questa volta parliamo di separazione e di divorzio. Andiamo a chiedere alle carte se questa separazione o questo divorzio andrà a buon fine. Innanzitutto se riusciremo a separarci e a divorziare. E nel caso fossimo separati, andrà comunque a buon fine tutto il percorso che ne deve seguire. Le varianti sono tre. Gommina rosa, gommina gialla, gommina verde. Potete prendervi il tempo necessario per inquadrare la situazione e per decidere a cosa volete pensare. Perché magari state pensando al divorzio del vostro compagno o con la moglie e non al vostro divorzio. Quindi decidete voi se si parla del vostro divorzio, la vostra separazione, quella dell'amante, quella del compagno. Vedete voi. Io sposto nel cantono un attimo due varianti. La variante gialla e la variante verde. Ok. Sono un pochino raffreddata, perdonatemi. E mettiamo la gommina bene in vista. La mettiamo qui, così la potete vedere bene. Andiamo a vedere un po' come è questa situazione. Allora, c'è sicuramente il coronamento di questo sogno. Molto bella questa carta. Qui probabilmente stiamo parlando del divorzio di qualcuno che a voi interessa, con il quale ricominciare qualcosa insieme, secondo me. La possiamo contestualizzare in tutti e due modi. State pensando al vostro di divorzio. In realtà ci vorrebbe anche essere una riappacificazione se qui stiamo pensando a una separazione. Quindi poi andiamo a specificare meglio. Possiamo dare tre significari a questa prima carta. Riappacificazione se parliamo appunto di una situazione dove si sta pensando di separarsi o se solamente separate in casa. Riuscita, fortunata quindi di una possibile separazione o divorzio. Io lo contestualizzo anche come possibilità di una nuova realtà di famiglia e quindi la buona riuscita del divorzio di qualcuno che a voi interessa. Al momento però diciamo che la situazione è un pochino rallentata e bloccata. C'è qualcuno dei due nel caso della separazione o del divorzio che ha impuntato i piedi, ha appunto incrociato le braccia e non vuole andare avanti. Perché in realtà non ci si smuove in che senso? Perché questa persona che si è impuntata è quella che si vuole liberare. L'altra persona sta facendo di tutto per un pochino trovare una sorta di pacificazione. Quindi sta offrendo molto anche a livello di sentimento. Ma l'altra persona ormai è removibile. Quindi anche questa seconda carta mi fa pensare che possiamo parlare di una possibilità di riappacificazione ma al momento ferme a queste due carte ancora non sappiamo bene. Oppure semplicemente il fatto che questa persona la decisione l'ha presa. Quindi io do queste varie interpretazioni perché sede migliaia e non può quadrare per tutti la stessa storia. Quindi ci sono queste due possibilità. In entrambi i casi comunque c'è la riuscita felice. Per chi vuole recuperare recupera perché si vuole separare si separa. Il problema però potrebbe essere anche quando si tratta in questo caso di rallentamento un non accordo dal punto di vista materiale. C'è qualcosa di poco chiaro. Non ci si avventura. Non si prende il largo del tutto perché anche la persona delle due più convinta di allontanarsi vuole prima chiarire l'aspetto economico che in questo momento chiaro non è. E soprattutto se invece si parla di pacificazione questa persona non torna e se torna vuole prima avere la certezza di aver chiarito perché i problemi potrebbero anche essere nati per problemi economici, per una modalità non corretta di amministrazione dei beni della famiglia. Cioè c'è l'aspetto economico che per entrambe le possibilità deve essere comunque chiarito per sbloccare la situazione. Infatti c'è la disputa e il non accordo. Quindi sebbene la risposta è sì alla fine ci riuscirete, il problema è che in questo momento siete in disaccordo o sono in disaccordo e non hanno o diciamo nessuno ha più armi dell'altro. È come se si trovassero tutte e due ad avere un tot di ragione e una certa quantità di torto per l'appunto. Quindi la situazione rimane lì in stallo, non si muove, non si muove. Però potrebbe intervenire un terzo fattore esterno a fungere da chiave di volta di questo momento di impasse. Che potrebbe essere sia una notizia che porta la pace, abbiamo anche questa anfora, questa coppa, o invece l'intervento di una persona, può essere tanto un avvocato, tanto una terza persona o un parente, che riesce a far raggiungere una sorta di accordo. Sia che si tratti di ricominciare, sia che si tratti della divisione dei beni per chiudere. Abbiamo anche un 13 che è una morte e quindi è anche una morte rinascita. Infatti rimane un po' ambiguo, a morte rinascita potrebbe essere tanto la stesura della chiusura, tanto la stesura del recupero. In entrambi i casi contestualizzate voi, comunque l'esito è felice. Al momento sì, ci si sta guardando intorno, ci si sta guardando alle spalle, si sta facendo il bilancio, tu hai preso questo e ho messo quest'altro, però sai com'è, i figli, non i figli, il mantenimento e non ti do niente. Questa è la situazione un pochino, perché di per sé non è proprio il sentimento che li tiene assieme, perché se parliamo della separazione che avverrà, qui il sentimento oramai è già andato e nemmeno hanno odio, è solo una questione tecnica. Nel caso invece ci sia la pacificazione, anche lì oramai non è il problema tanto del sentimento, è il problema di una presa di posizione, cioè c'è uno dei due che si è impuntato. E infatti siamo sotto tutte e due lo stesso cielo, cioè continuando a dare entrambe le varianti, per la persona che si separerà, si separerà, ci sarà subito un nuovo inizio, perché in realtà già c'è o una convivenza, o una relazione, o una relazione segreta, c'è un amore. Perché è stato anche un qualcosa nato da poco, anche un colpo di fulmine. Per la persona invece che fa parte di quella variante, quel gruppo di persone che si vogliono riappacificare, che avranno questa pacificazione, comunque sarà un qualcosa che arriverà, ma che bisogna costruire. Cioè qui non è lanciare una freccia a caso, qui dovete sistemare tutte le cose per poter ripartire, perché il colpo di fulmine è sempre una partenza. E se parliamo di chi recupera una ripartenza, proprio dallo zero, dovete rimettere in chiaro tutto. E infatti c'è la speranza, in entrambi i casi, ma soprattutto per quella che è la variante della riappacificazione, c'è la speranza di recuperare. E se si recupera questo rapporto è perché uno dei due non ha mai mollato di mandare amore, comunque. Ci deve essere stato appunto, il problema è stato proprio pratico, economico, e qua non sento neanche la presenza degli amanti, o cose del genere, interferenze della famiglia, no. Ci devono essere stati dei problemi a livello di lavoro, economici, di amministrazione, qualcosa. Vedete? Siamo lì, lì, è un passo tra le spade, il vincolo, non vederci chiaro, non avere futuro, è l'accordo che viene recuperato. Quindi questo accordo comunque ci conferma per entrambe le possibilità, sia l'accordo per separarsi, sia l'accordo per ricominciare. Si passerà attraverso le vie legali, quello sì, perché probabilmente chi ancora non si è separato del tutto e vuole ricominciare, vuole riprendere, però ha iniziato una sorta di pre-separazione. Quindi, da un lato, una parte delle persone che stanno vedendo questa variante, andranno verso un felice esito della separazione, dall'altra parte, quelli che invece stanno per riappacificarsi, riusciranno però, devono saper sotterrare l'ascia di guerra e sapere andare oltre a tutte quelle sofferenze, quei problemi che hanno già creato e che sono all'orizzonte, che potrebbero diventare peggiori se questo accordo non si recuperasse e non si stabilisse per tempo. Poi, infatti, vedete, si può rientrare dalla porta da cui si è usciti, ma bisogna spezzare proprio e gettare via, non far finta di non vedere tutte queste sofferenze, queste spade e tutto il male che ci si è fatti. Ci troviamo in un momento di fermo. Allora, io continuo a parlare per la coppia che recupererà, perché in realtà, per quella che avrà un felice esito del divorzio e della separazione, chiudiamo con questa carta qua, l'esito è felice, ve lo confermo, attraverso le vie legali si stabilirà tutto. Per quanto riguarda, invece, quelli che riusciranno a riappacificarsi, adesso è come se qualcosa in questa macchina che ci portava assieme verso una meta comune si fosse rotto. Siamo rimasti fermi e abbiamo dovuto chiamare aiuto e carattrezzi e siamo lì, soldi in mano, chiave in mano, con una terza persona che è probabilmente un avvocato oppure qualcuno che sta cercando di aiutarci a fare questa sorta di cheat di coppia. Quindi siamo proprio lì a un passo dal sotterrare l'ascia di guerra e far finta che non sia accaduto niente per ricominciare da capo con lo stesso amore di prima o poi andare verso un orizzonte se non ci si è a pacifica, in questo caso si va verso i guai. E' anche una questione molto lunga prima di liberarsi. Bisogna fermarsi proprio in questa posizione, valutare e vi faccio vedere una cosa come torna alla simbologia delle coppe, guardate qui che meraviglia, e dell'arcobaleno. Bisogna fermarsi e fare il punto, avere la pace di vedere ciò che è bianco è bianco e ciò che è nero è nero, non fare tutto grigio e tutto un mescuglio, per passare da questa posizione da soli a questa realizzazione di nuovo. Vedete? Guardate queste carte come si richiamano. Quindi all'orizzonte c'è un grande successo. E se si recupera qua, si recupera meglio di come si è cominciato assieme. Io credo che tocchi alla donna soprattutto essere quella più matura, quella che deve valutare i pro e i contro di questa relazione. E infatti, questa persona che deve essere sia coraggiosa che saggia, deve essere ferma, non si deve lasciar turbare dai dubbi e neanche da ciò che è stato fatto per agitare le acque. Deve avere la chiarezza di vedere e di prendere la sua decisione, se vuole salvare questa coppia. E vi confermo anche questo, guardate che meraviglia. Si ricomincia, si ricomincia e si ricomincia in maniera molto positiva, però bisogna ripartire da zero. Torniamo alle origini, al colpo di fulmine. Quindi se recuperiamo tutto, qui si riparte, ma si riparte meglio di quando ci si è conosciuti dell'inizio di questa storia. Quindi ragazzi, abbiamo avuto una sorta di doppio variante nella prima variante. Due possibilità. Andiamo a vedere adesso, per la variante verde, come siamo messi. Variante verde, eccola qui. Qui vediamo un po' com'è la situazione e se c'è questa separazione. Allora, qui siamo in piena guerra. Guerra burocratica. Qui stiamo veramente contando i beni. Questo è mio, questo è tu, sono agguerritissimo. Voglio la parte mia, non voglio che ti rassi niente. Cioè, qui stiamo proprio in un clima molto pesante. Molto pesante in cui si sono talmente alterati i toni che se prima all'inizio le due persone avrebbero potuto conciliare in maniera più semplice, lasciando un po' qua e prendendo un po' là, adesso invece si stanno proprio dividendo tutto, anche i cassetti del mobile di casa. E sono irremovibili. Qui ciascuno rivendica la sua posizione, la sua autorità, i suoi beni. Cioè, qui veramente stanno facendo una sorta di valutazione. Io ho messo la dote, tu hai messo la casa, io ti ho portato a mangiare fuori più volte, tu di meno. E i toni sono molto alti, c'è molto assio, qui ci si tratta male, ci si offende, c'è un clima infocato, un clima rovente. E ve lo confermo, un clima rovente fatto anche di tante stupidaggini. Cioè, adesso si sta tirando fuori anche tutto quello che è illogico, che non ha nessun senso. Cioè, là si sta, come si suol dire, buttando in cacciara. E chi più può starnazzare, chi più può fare rumore in questa separazione, in questo divorzio, lo sta facendo. Ma se lo fanno, l'un con l'altro, proprio a dispetto. Cioè, in questo momento, magari c'è anche rimasto un sentimento di fondo, ma si sono talmente alterati i toni qui, che proprio si sta facendo, tu mi fai così, io ti faccio molto peggio. Ma infatti, qui siamo partiti da una situazione in cui, all'inizio, sembrava possibile poter giungere ad una conclusione in maniera pacifica. Si dialogava. Perfetto. Deve essere subentrato qualcosa. Io credo che uno dei due abbia scoperto che la vera motivazione della separazione, del divorzio, è un ulteriore partner. Probabilmente una storia nata prima ancora che iniziassero le pratiche della separazione, qualcosa di taciuto, una cosa che non è stata la vera causa scatenante, ma bensì si è scoperta poi essere la vera causa scatenante. Infatti, eccoci qua. Io adoro queste carte. E poi la cosa più bella è proprio vederle con voi un per una. E qui c'è sicuramente qualcuno. E' uscita fuori una situazione un po' poco chiara. E' uscita fuori l'amante. E' uscita fuori la relazione. E' uscito fuori qualcosa che è stato tenuto nascosto prima. E infatti abbiamo anche la rivelazione. Quindi non è stata una cosa confessata. E' stata una cosa che probabilmente può essere venuta fuori anche controllando, che ne so, i movimenti bancari. Oppure il momento in cui si è cominciato con la separazione, l'uno dei due, quello che aveva l'amante, e all'improvviso ha messo alla luce del giorno questa relazione che aveva tenuto celato. Solo che il problema è stato che l'altro si è insospettito. Ha andato ad indagare e ha scoperto che è altro che relazione recente. Questa era una storia nata nel passato e che durava già da tempo. Cioè, sta a loro scontro. Forse quella donna o quell'uomo si è dovuto anche allontanare un pochino della vita di questa persona mentre fa questa separazione e questo divorzio. Perché se no si rischia grande e si rischia grosso anche a livello di mantenimenti. E proprio di quella separazione dei beni. Ecco perché adesso c'è questo grandissimo scontro proprio pratico, burocratico, economico. E qui la persona che è stata sgamata, quella che cercava di fare il doppio gioco, che poi non ha fatto un cattiveria, si è sentito semplicemente così, all'improvviso, libero di poter fare alla luce del giorno quello che aveva dovuto nascondere. Perché poi, se non fosse stato scoperto, comunque la relazione di per sé era anche abbastanza morta. E quindi anche l'altro partner aveva quasi accettato di buon grado il fatto di separarsi. Non è che faceva o ha fatto i salti di gioia, però neanche sia opposto. Il problema è che poi sono iniziati dopo quando gli è arrivata all'orecchio la prova di questa relazione. Adesso lui è vincolatissimo perché... Mentre prima se l'ha sentito all'improvviso libero, dice faccio la separazione, sono libero, inizio la mia nuova vita e adesso la moglie o il marito che sia li sta giocando contro proprio ripicca. E quindi tutto ciò a cui si può attaccare per ritardare, per vincolarlo, per complicare la situazione, questa persona lo sta facendo. E gli giura vendetta, cioè a cui si tratta proprio di aver parlato non solo con gli avvocati, con gli amici e familiari, ma lo vorrebbe morto, non proprio morto, ma in questo momento veramente lo appenderebbe per il collo, lo prenderebbe per il collo, perché si sente presa in giro, in giro, si sente raggirata e era una cosa che non si sarebbe mai aspettato, una cosa che non può comprendere, non può condividere, veramente gli darebbe fuoco, cioè in senso metaforico. E ecco perché è anche tutto col fuoco, con le fiamme che si vedevano nelle carte di prima. E questa è una persona arrabbiatissima e ne parla malissimo di questa persona, sì, ne parla tantissimo male, magari prima non l'avrebbe fatto, lo riscrive come un viscido, una brutta persona, è una persona che chissà quante donne ha avuto, quanti uomini ha avuto, ha sempre indossato una maschera con me, non è stato mai sincero, si è approfittato, ha preso tutto, è una persona di bassa statura morale, una persona che si è comportata male, una persona di cui non ci si può fidare, che ti volta le spalle nel momento del bisogno, è piena di vizi. Sì, tutto quello che gli può dire glielo sta dicendo e ce la prende anche con l'altra persona, con l'amante, uomo o donna che sia. Cioè proprio oramai ha fatto di tutta l'erba un fascio, il fuoco alle spalle lo vedete, vedete grandissimi ostacoli, prima di potervi separare è qua la questione a lunga. È lunga perché adesso ve l'ho detto, ovunque si può mettere un cavillo per ritardare e complicare la situazione, verrà ammesso e vi sta facendo terra bruciata intorno, perché questa persona si vuole portare via tutto e vi vuole lasciare proprio in mutande in questa situazione. E toccherà a voi prendere quelle poche cose che avete e anche impegnarle, cioè qui sarà anche un divorzio e una separazione costosa. Cioè ci vorranno soldi anche per poterla semplicemente affrontare questa situazione. E la persona che è stata scoperta e che appunto adesso viene messa in difficoltà, non si aspettava tutto ciò, altrimenti avrebbe tenuto celato con intelligenza la relazione che aveva in essere, e all'improvviso, non avendolo fatto neanche apposta con cattiveria, ma con superficialità, non ha avuto neanche mezzi per potersi difendere. Ora sta assubendo tutta questa situazione. Ah sì, gli tocca affidarsi a un buon avvocato, gli tocca comunque affidare la questione ad altra gente, a qualcuno che sappia gestire questo fuoco che altrimenti potrebbe bruciare tutto. Il consiglio è per l'appunto di trovare un qualcuno che possa legalmente tutelarvi in maniera seria. L'unico modo per accelerare un po' la situazione e per uscirne è questo. Dovete stare attenti a non incorrere in prestazioni, cioè non affidarvi a persone poco chiare, e soprattutto non intenzionate a tutelarvi realmente, perché tante volte gli avvocati si anche accordano, cioè non fanno neanche il gioco della persona che li paga. Ecco, in questo caso cercare di capire se questa è una persona di cui vi potete fidare, che sta realmente tutelando i vostri interessi, perché altrimenti il rischio è che la situazione possa allungarsi ancora di più, l'attesa possa aumentare ancora di più. E infatti io confermo il fatto che tutto si gioca nell'ambito del tribunale in questo secondo caso. dovete trovare la persona adatta che vi sappia tutelare, che sappia far perdere la bilancia dal vostro lato, e se non dal vostro lato metterla almeno in pari, perché altrimenti il rischio è che alla fine questa persona vada anche a perdere economicamente, sì, rimarrebbe, diciamo, fuori da tutto. Ci fa rimettere socialmente, a livello di reputazione, a livello economico, viene sbattuto fuori pure la casa sua, perché se magari è l'uomo, lei non se ne va da casa, e magari la casa è dell'uomo e costretto lui ad andarsene. Cioè diciamo che è una situazione abbastanza un po' complicata. A me mi dispiace perché in realtà da quello che percepisco tutto è degenerato per questa superficialità che uno dei due ha avuto, per questa seconda variante. Adesso andiamo a vedere anche la terza. Allora, scusatemi, sistemiamo le gommine. Terza variante è variante gialla. Come siamo messi in questo caso? Allora, qui la situazione è a un buon punto. Qui la situazione è comunque gestita bene, molto probabilmente anche per quanto riguarda la separazione delle proprietà dei beni. Comunque è stata affidata a persone che la possono gestire, organizzare nel migliore dei modi per tutte e due. Cioè è una situazione molto equilibrata in questo caso. Anche se uno dei due potrebbe cercare di imporsi, o sta facendo questo tentativo, di un pochino spostare l'asse dell'equilibrio per imporsi un po', però al momento dovrebbe essere abbastanza chiara. Sì, uno dei due sta cercando, è come se si fosse giunti al punto, ma anche qui ci fossero dei rallentamenti dovuti al fatto che uno dei due, come se all'improvviso, dopo essersi messo d'accordo, abbia deciso, scusatemi, avviciniamo un po' la camera, di rivendicare cose che prima non erano state tirate in ballo. E quindi c'è questo rallentamento perché si sta pensando nuovamente a come sistemare la situazione, a come chiuderla in maniera definitiva. Sì, è sulle proprietà. È sulle proprietà. Probabilmente non ci si è accordati bene su come suddividere la casa e i soldi. O qualcuno ha fatto la proposta, stiamo pari, io ho messo finché siamo stati insieme lo stipendio, tu avevi la casa o viceversa, oppure qualcuno sta proprio rivendicando tutto, potrebbe essere un marino nei confronti della donna o viceversa, cioè uno dice io ho messo la casa e i soldi, tu non hai fatto niente, ora sì ci separiamo, siamo d'accordo su tutti, ma io voglio recuperare questi miei beni, voglio che tu mi rimborsi. Uno dei due sta in una condizione comunque economica peggiore dell'altro e se dovesse andare a buon fine quest'ultima rivendicazione, uno dei due rimarrebbe veramente fortemente scottato. C'è qua la separazione c'è. E siamo anche a buon punto. Forse qui siamo proprio al divorzio in realtà, giudiziale, probabilmente, dove uno dei due sta rischiando veramente di lasciarci le penne per quanto riguarda proprio gli aspetti pratici, non quelli morali, non quelli della relazione. Anche qui la questione potrebbe essere terminata per il fatto che il matrimonio è stato distrutto dall'entrata in gioco di un'altra persona, non che la colpa sia di questa persona, ma semplicemente una delle due, una dei due, forse lui, è stato scoperto con l'amante, ma in questo caso potrebbe essere anche lei. E quindi questo accadimento, come per la seconda variante, per l'aspetto economico e immateriale, è veramente sentito perché l'altro ce l'ha comunque. Cioè il divorzio, la separazione, perfetto, si accetta, anzi, mai l'altra persona ha cercato di perdonare, di recuperare, neanche ha voluto spiegazioni. Però sul fatto economico non transige. E no, perché ce l'ha con questa persona. Allora, la persona che adesso fa la voce grossa non ha neanche richiesto spiegazioni, non si è neanche abbassato a provare a sopplicare di recuperare. Assolutamente, qui c'è l'orgoglio. Però c'è la morte, c'è la morte e se può portarsi via tutto, anche in questo caso farà di tutto per riuscire in ciò. Perché era una persona che amava tanto. Per questa persona la casa era l'ambiente più sacro. Probabilmente sarà radita dentro casa sua. Probabilmente, e qui torniamo anche alla questione prima, dicevamo della casa e dei soldi. Qui si sta litigando tanto anche per questo. E probabilmente non si vuole giungere ad un'equa divisione proprio per questo astio che uno dei due porta verso l'altro. Perché in questo momento si vuole giustamente vendicare. E quindi dice semplicemente io non ti impedisco di fare la separazione e il divorzio ma mi devi liquidare, mi devi ridare tutti i soldi che io ho investito per te. Vedete, la chiusura è certa, ma qui c'è una chiusura totale del matrimonio, della relazione, del divorzio, tutto. Probabilmente loro non si sentiranno neanche mai più dopo. Cioè, si è creata proprio un taglionetto, una delusione totale, la fine di tutto. Non c'è niente più di recuperabile per questa razza variante. Però è inutile, uno fa la voce grossa con l'altro e l'altro deve per forza subire in una posizione di inferiorità. Infatti si sta proprio facendo così il censimento di tutti i beni. Anche nella cosa più stupida, io ti ho regalato quel paio di orecchini, ah, l'hai perso, a me non interessa, mi li dai soldi di quel paio di orecchini. Cioè, proprio tutto, quante volte io ti ho portato a cena, tu non mi hai portato a cena mai. Cioè, qui veramente si sta arrivando a un punto che sfiora un pochino anche il ridicolo. Però è inutile. Purtroppo la situazione è diventata complicata, paradossale, non si può in questo caso tornare indietro come farebbe di buon grado questo gambero. È proprio come se uno dei due, quello che ce l'ha con l'altro, avesse giurato a se stesso, avesse fatto un giuramento. Io mi vendico. Cioè, io non te la faccio passare liscia. Tutto quello che è nella mia possibilità, io lo farò, ma tu questa volta paghi. E infatti è tutto là. E infatti vi confermo anche questa chiusura che però in questo momento è ancora non totale, non ci si vede ancora chiaro, si è ancora in lotta tra i due, si sta guerreggiando per arrivare ad un risultato accettabile, per arrivare a una sentenza. ecco, però la chiusura è netta. La chiusura, qui la separazione, il divorzio sono certi, cioè ma questi sono certi fin dall'inizio. Vi confermo anche questa grande delusione da parte di uno dei due partner che molto probabilmente ha scoperto questo tradimento nelle pareti domestiche, in casa. e comunque questa è una persona che amava tanto. Il problema è proprio questo, è che prima di scoprire questa situazione comunque era una persona tanto innamorata probabilmente, oltre al fatto che ora ci sia tanto odio. Quell'odio è proprio perché l'amore in quella persona non è finita. E quella persona probabilmente non ricomincerà neanche nessun'altra relazione, dovrà riprendere tutto da zero e puntare solamente sulle proprie forze, anche nell'amministrazione dei propri beni. E soprattutto adesso sta cercando di vedere con chiarezza come stanno tutte le cose, perché magari prima convinta di vivere una situazione abbastanza serena in ambito familiare, non si era mai neanche interessata di capire come funziona con le proprietà, con le bollette, con la macchina, col bollo, con le cose intestate a me, le cose intestate a te, però adesso si sta muovendo per tutelare tutti questi suoi diritti e questi suoi interessi. E sì, purtroppo, voglio vedere una cosa, questa relazione, eh certo, tutto è finito per l'inizio di questa traballante relazione scoperta alla luce del sole. Abbiamo il tavolo del bagatto, qui manca una gamba, quindi è un tavolo imperfetto, ci sono tutti gli elementi, ma c'era anche un temporeggiare. Probabilmente l'amante non è neanche una storia seria, per questa persona, però questa persona in questo momento non verrà perdonata neanche in futuro, ha fatto una sciocchezza, l'ha fatta in maniera da infame, come si direbbe, perché lo potevi fare fuori di casa tua, non dentro casa tua, non in quel modo e non offendendo una persona che ti amava e ti ha amato e ti ha sempre trattato bene. Magari era anche la prima volta in cui quella persona tradiva la moglie o il marito, cioè tra l'altro anche sfortunato, non che in queste cose ci sia la giustificazione o la fortuna, però ahimè è andata così, la situazione è venuta a galla e infatti all'improvviso ha portato a questo cambiamento totale di dinamiche. Qui c'era una situazione familiare tranquilla, probabilmente tutto funzionava bene, non c'erano stati screzi, non c'era stato nulla e questa scelta malponderata ha portato a questo capovolgimento di situazione e adesso è inarrestabile, le conseguenze sono inarrestabili, questa ruota si è azionata e porterà verso questa chiusura che sarà anche come la seconda variante una lotta fino all'ultimo centesimo. Infatti per queste due ultime varianti la questione si giocherà molto sui beni materiali e sui soldi. Quindi ragazzi, questo è quanto per l'interattivo richiesto circa la separazione e circa i divorzi. Io aspetto le vostre conferme, smentite come vi risuona. fatemi sapere, grazie per i commenti, grazie per la richiesta di interattivi personali, grazie per le mail che mi mandate e per far conoscere il canale anche i vostri amici. Vi ringrazio tantissimo, iscrivetevi, spuntate la campanella e ci sentiamo presto per il prossimo interattivo.